con l'uccello la che vedete sulla barca è un cormorano è un uccello simile ad un pellicano però è più piccolo e alle ali c'è una la sacca sotto sotto la gola siamo qua come siamo qua al lago sirino siamo ritornati stiamo andando da mangiare ai pesci le carpe che ci sono dentro l'acqua quanto abbiamo l'abbiamo notato qua sulla barchetta che venne fare poi di là ci sono anche delle anatre ci andremo dopo vedete sta con le ali spalancate si sta asciugando forse perché è andato a bere prima prima si è tuffato in acqua per andare a pescare dei pesci ora si è andato a asciugare al sole se lo so non posso zoomare più di così dovete accontentarvi ok ciao